Papà, aspetta! Ascolta il nostro podcast. E allora bentornati su Un Corpo I Miei Tatto, i Prepper dell'Anima. E quest'oggi abbiamo invece nel nostro meraviglioso studio, sempre quello dell'altra volta con gli stessi quadri, il stesso orologio, la stessa lucermina, la stessa tende, la nostra carissima Marianna Vezzani. E allora, visto che il suo dolcissimo marito l'altra volta è stato... Così esaustivo! Anche io oggi le chiedo cosa mi può raccontare di lei guardandosi indietro. Vai! Ciao amici, bentornati! No, no, era già questo l'introduzione. Questa domanda brucia pelo. Prego, dottoressa! Va bene, allora, io inizio a raccontarmi... L'altra notte non riuscivo a dormire, quindi ho iniziato a fare un po' una linea del tempo sulla mia vita. Io... Perché non riuscivo a dormire? Quale l'oscuro motivo? Forse due anime po' carinissime dell'altra stata. Due anime pie! Niente, diciamo che innanzitutto quello che c'è da dire di me è che io sono sempre stata una tipetta piuttosto particolare. Ho sempre avuto il mio bel caratterino e questo lo raccontano tutti nei secoli dei secoli. E questa è stata la mia più grande forza e la mia più grande fragilità, come sempre. Perché ovviamente dietro questa corazza forte e invincibile e invitta, dietro questo caratterino fumantino, croccante, pungente e alle volte acido, si nascondeva un grandissimo cuore di panna. Ma tendenzialmente nessuno arrivava al cuore di panna. Quindi diciamo che io sono sempre stata quella delle grandi battaglie, la leader, la capoclasse, insomma un po' quella che teneva le redini della situazione e puntava sempre più in alto. Io ero quella che faceva polemica perché agli incontri si dovevano fare cose più profonde, perché bisognava andare di qua e di là e di su e di giù. Arbitro e fallo! Esatto, queste cose qua. No, in realtà tutta questa parte mia nascondeva una fragilità, una sensibilità, una profondità che sono sempre state un po' la mia spina nel fianco. Perché tante volte nella mia vita sono uscite con purezza e con spontaneità e però da parte mia invece c'era una totale resistenza davanti a queste mie lacrime, questa mia parte molto più dolce e molto più mansueta, probabilmente perché la mia resistenza più grande era pensare che se io avessi mostrato le mie fragilità in realtà poi di fatto gli altri le avrebbero usate, manipolate o comunque che non le avrebbero accolte come perle preziose ma le avrebbero un po' calpestate. Quindi c'era questa piccola adolescente e un'altra cosa che mi ricordo è che io ho iniziato a svilupparmi prestissimo rispetto alle mie amiche, quindi sono stata catapultata nel mondo adulto di assorbenti e depilazione anzitempo e questa cosa è stata un po' particolare. E quindi nulla, io ero sempre un pochino quella che era uno step avanti, ma non perché ero migliore, semplicemente la mia evoluzione mi ha sempre spinto un po' più avanti, c'era quella che non si accontentava mai, che non aveva mai abbastanza, che voleva sempre di più e che in questa cosa non mi davo mai pace e mi sentivo completamente anche sola. Insomma, ero veramente sempre un po', non so come dire, un alieno, un essere a sé. Però ripensando un po' alla mia vita, mi ricordo che, vabbè, io sono sempre andata in parrocchia, a catechismo, in chiesa, insomma, ho sempre vissuto una vita di fede, anche di riflesso rispetto alla mia famiglia, ai miei genitori. E in particolare, mi ricordo che quando i miei genitori decisero di mandarmi alle medie in una scuola diversa da tutte le mie amiche, perché è stato un momento drammatico della mia crescita, perché dicevo, ma io dovevo andare nella scuola cattolica, perché c'era un'insegnante più brava di quella che mi avevano assegnato nell'altra scuola, perché i miei genitori ci hanno sempre tenuto molto, e di questo li ringrazio, alla mia istruzione e al fatto che io usassi il mio cervello, la mia testa, imparassi ad avere una mia opinione sulle cose, quindi per loro questa era la priorità. Perciò mi iscrissero alla scuola cattolica, non tanto perché era cattolica, ma perché c'era un'insegnante molto molto brava, che era capitata nella mia classe, nella mia annata, e tutte le mattine, quando si arrivava a scuola, c'era nella cappellina di fianco alle aule suor Luisa, che con la sua meravigliosa chitarra e col suo meraviglioso sorriso cantava le lodi prima di andare in classe. Bastava arrivare un quarto d'ora prima e suor Luisa, con la sua falcata sulla chitarra, il suo sorriso e la sua voce pazzesca, ti allegrava per tutta la giornata. Io mi ricordo che la pienezza di vincere, la fatica di alzarsi per andare a cantare con suor Luisa, questa cosa mi è rimasta dentro tantissimo perché suor Luisa era travolgente. Cioè, mentre noi abbiamo sempre un po' l'idea, a proposito di etichette, che le suore siano un po' pallose, esattamente, l'hai detta tu la parolaccia, ragazzi, sempre voi che dici le parolacce. Ragazzi, ragazzi, vuol dire ninto. Ti ricordo che siamo in uno studio professionale, bellissimo, ma tecnico. Va bene, e quindi io mi ricordo appunto suor Luisa, se dovrei definirla con un termine, la definirei un fiume travolgente, cioè un torrente, una roba boom, pazzesca. E devo dire che anche solo il ricordo di questo quarto d'ora prima delle lezioni a cantare mi riempiva veramente la vita, mi riempiva veramente il cuore e l'anima. E credo che poi abbia traboccato a un certo punto, no, questo fiume in piena. Non ho imparato a suonare la chitarra, ma... Quasi. Cantare sì, però. Sì, a cantare sì. E quindi sicuramente ci sono stati degli incontri anche per me nella mia vita che mi hanno molto cambiata e che hanno segnato il mio percorso e che mi hanno parlato di me, anche se in quel momento magari non ero consapevole che mi stessero parlando di me e di quello che sarebbe stata poi la mia vita. Io sono, insomma, continuato a crescere, ho fatto la mia evoluzione e tra la terza media e la prima superiore c'è stata un po' questa... dal brutto nataloccolo al cigno nel giro di un anno e quindi... Ah, allora anche tu, eh? Eh, sì, allora anch'io, no. In realtà, per me crescere, come vi dicevo, è stata un po' una... non una sofferenza, però... Cioè, non è che io mi ritrovavo proprio molto bene in tutte queste forme, in tutte queste... in tutti questi cambiamenti. Essere donna mi affascinava tantissimo, dall'altro lato non ero forse pronta totalmente ad accogliere questo cambiamento. Però, fatto sta che, insomma, ho iniziato un pochino ad avere i miei primi interessi, i miei primi innamoramenti e quant'altro e devo dire che l'amore per me è sempre stato qualcosa di molto affascinante. Mi ha sempre parlato tanto e soprattutto ci sono state delle storie d'amore che mi hanno parlato, mi hanno segnata e mi hanno, in un qualche modo, invogliata a desiderare qualcosa di più, a puntare più in alto, a dare voce anche a quella sensibilità, quei desideri che si nascondevano nel mio cuore sotto la corazza della perfetta secchiona, brava in tutto e super, voilà! E una su tutte è stata sicuramente a segnarmi, è stata la mia educatrice. che ha avuto una storia molto particolare, però grazie a lei e con lei ho imparato una delle sfaccettature dell'amore, mi è stata raccontata una delle sfaccettature dell'amore che, a differenza di quello che accade normalmente oggi quando se ne parla, a me ha profondamente affascinato perché ci ha riconosciuto una verità e una libertà, che è stata la castità. Perché lei è stato proprio grazie all'aver capito che la castità era un dono di libertà, era qualcosa di profondamente legato all'amore, qualcosa che aggiungeva all'amore, non toglieva, ma lei in realtà poi da miglior amica scartata è diventata prima scelta e si è pure sposata. Perché probabilmente lei stessa, avendo sperimentato questo amore libero, questo amore vero, questo amore profondo, sincero, puro, ha fatto poi innamorare il suo allora miglior amico, e poi moroso e poi sposo di questa cosa e non ha fatto innamorare solo lui, lei ovviamente ha fatto un incontro, si è fatta delle domande, ha approfondito questo tema e l'ha raccontato anche a noi, anche a me e io di questo racconto ne ho fatto tesoro. E questo per me è stato fondamentale perché poi andando avanti nella mia storia di vita è stata un po' la discriminante, cioè questo amore che mi è stato raccontato, questa modalità di stare in coppia, mi ha affascinato a tal punto che tante volte ho detto no. Ho detto no a delle storie d'amore che avevano tante cose belle, ma alle quali mancava sempre qualcosa e io mi rendevo conto che quando si toccava il tastello della castità tutto faceva verità e quindi mi parlava di quello che era il mio cammino. Quindi nel momento in cui si arrivava a parlare di quello, nel momento in cui ci si arrivava a confrontare su quello, io capivo se era la mia strada oppure no. e infatti ho lasciato quasi sempre io perché appunto, non lo so, io andavo in ricerca di questo amore, ripeto, libero, puro, vero, profondo, sincero, era qualcosa che mi attirava profondamente e come me ne avevano parlato questi incontri sia agli occhi di Suor Luisa che i racconti della mia educatrice, che anche le scelte di vita ad esempio che ha fatto anche mia sorella, nel senso che anche lei con il suo marito di oggi ha avuto un percorso molto profondo, molto anche avvincente e non convenzionale capivo che in tutte queste storie c'era qualcosa che mi attirava e che mi parlava di un di più e quindi andavo in cerca, annaspavo, cercavo, mi davo da fare, domandavo, leggevo e era veramente una cosa che mi totalizzava e questa sono stata un po' io hai preparato la via così negli anni, sì, io veramente, se devo descrivermi in un modo in quegli anni, io non ne avevo mai abbastanza di me e degli altri, mi mancava sempre qualcosa, sempre qualcosa, era veramente una escalation molto potente lo vedevo da tutto, i voti a scuola non erano mai abbastanza, io non ero mai abbastanza le cose che avrei voluto fare erano veramente infinite c'era una voglia di vivere, una voglia di fare enorme che però in un certo qual modo è stata anche un po', un po' non capita quindi di fianco a questo fiume travolgente in piena diciamo che c'è stata anche un po' una chiusura si è cercato un po' di arginarlo questo fiume in piena perché probabilmente spaventava, probabilmente ero veramente indomabile e indomata e quindi questa cosa spaventava e purtroppo però dopo si è passato al contrario cioè io a un certo punto sono arrivata a sentirmi sbagliata per tutte queste domande per tutta questa ricerca, quindi un po' come se io l'avessi soffocata cioè mi fossi sentita inadeguata per il mio carattere per le mie domande spesso provocanti nel senso che io proprio puntualmente anche con i professori pace all'anima loro che si ricorderanno ancora di me che infatti mi davano sempre 9 in condotta ma i 10 tutte le femmine avevano 10 in condotta tranne me perché io puntualmente facevo la moviola delle lezioni e puntualmente oltre a chiacchierare in sottofondo facendo i commentini su quello che il prof diceva puntualmente facevo la domanda scomoda e quindi... una rompiscata era un insopportabile una rompicoglione che... ehm... ricordiamo che siamo stati professionali sono viettati certi termini vabbè insomma quindi stiamo passando in una galleria e quindi questa... non so direi che questa sono io no? questa è la miglior descrizione di me devo dire una cosa intanto alzi la mano chi si può riconoscere in questa sete instancabile cioè così proprio estemporanea e... proprio perché tutti siamo fatti per quella roba lì e... e poi è pazzesco per me vabbè oltre alla complementarietà che noto che ho notato mentre raccontavi tra noi due dopo ma questo sarà poi per i prossimi... sarà cibo per i prossimi episodi e... però mi ha... un'altra cosa che mi è arrivata proprio tantissimo è questa... questa... ehm... ehm... non so come dirlo questa trasparenza questo... questo... vedersi tutto sul corpo cioè io che avevo raccontato nel... nella mia testimonianza come ero quello gracilino che era sempre il ritardo cioè non ero mai abbastanza per gli altri perché ero sempre quello più piccolino sempre quello meno sviluppato che non aveva ancora la barba quando tutti ce l'avevano e tutte queste cose qua quindi proprio come una roba e... se dobbiamo vederla a livello di significato e... pensando al corpo come custode di quello che hai dentro no? e... e come specchio di quello che hai dentro quasi come una roba frenata e... quel fuoco frenato che io frenavo perché io mi sentivo sbagliato per quella roba lì e quindi in realtà era come se quasi fossi io a frenare il mio corpo nello sviluppo perché non volevo prevalere sugli altri e mi vergognavo e... e a te invece è quasi il contrario cioè nel senso che è stato il percorso opposto e... che hai detto che sei invece stata quella che si sviluppava prima e questa cosa ti metteva ugualmente a disagio cioè come il corpo può leggerti e come il corpo può far vedere agli altri quello che sei interiormente e come sei interiormente e quindi come nel corpo è proprio vero che tu leggi tante robe e... che stai vivendo e come si manifestano ed è questa un po' la domanda no? del nostro progetto cioè come il corpo ti parla di Dio nella tua vita ma come anche un'altra domanda può essere come ti parla di te nella tua vita mi viene mentre mentre tu parli che effettivamente io ho passato un po' e... fasi tante fasi un po' altalenanti anche rispetto a questa cosa soprattutto rispetto al mio corpo perché in realtà c'era un gran desiderio in me del femminile dell'essere proprio donna e... e questo poi mi ha portato anche a essere ostetrica ovviamente perché mamma e tutto il resto però attenzione ragazzi c'è un nuovo lavoro in cantiere pazzesco spoiler lo scoprirete lo scoprirete però sono delle donne mi viene in mente no no anche per uomini perché comunque mi viene in mente il fatto che inizialmente io questo fuoco ho provato a scomparire con il mio corpo per fermarlo quindi ho passato un momento di grandissima magrezza nel quale proprio individuo questo cercare di scomparire questo cercare di non far uscire questo fuoco che avevo e mi ricordo sempre la mia educatrice fu l'unica che un po' si accorse di questa cosa e penso che lì ad esempio il signore sia passato perché è bastato veramente pochissimo nel senso che lei ha cominciato a scrivermi delle lettere ma soprattutto il nostro dialogo è iniziato con lei che mi ha guardato negli occhi e mi ha detto ma quanto sei magra ma stai bene mi è bastata a me quella frase per sentirmi vista per sentirmi veramente amata da lei che forse in quel momento non se ne è anche resa conto di quello che ha fatto però dopo grazie a questa cosa qua io pian piano ne sono uscita cioè mi sono resa conto che mi stavo bruciando mi sono resa conto che il mio fuoco mi stava bruciando mi stava facendo auto implodere e che quindi dovevo pensare a me dovevo pensare veramente che scelta fare ma questa cosa poi si è ripresentata più avanti perché dall'implodere interiormente quindi dallo scomparire io ho iniziato a bruciare tutti cioè esplodere fuori ed è stato poi anche così che io e te ci siamo incontrati cioè io ero un fuoco bruciante infatti io volevo andare a fare il percorso degli adulti dei giovanissimi perché c'ero io del gruppo giovani sì certo perché c'eri tu no perché in realtà non mi sentivo che era mai abbastanza quindi io volevo essere ammessa un anno prima il gruppo giovani cioè perché sborona esatto insomma io ero un po' così ragazzi mi si doveva un po' imparare a leggere sennò veramente risultavo un pochino un pochino particolare nel mio genere questa cosa pazzesca perché io l'altro giorno ho raccontato nell'altro episodio ho raccontato di questo don che si è accorto di me e mi ha guardato e mi ha fatto invito e tu oggi racconti un po' la stessa cosa cioè queste sono due modalità che ha usato con noi e che ripetiamo può essere di odio è prevedibile ed è creativo quindi usa nessuna modalità però questa è una cosa bellissima cioè che una delle modalità che usa è proprio quella che ti guarda cioè tu ti senti guardato e puoi usare i canali gli strumenti le persone che vuole però è quello sguardo lì che ti parla di un dio che ti sta cercando per incontrarti e lì te ne accorgi cioè la cosa bella è che hai raccontato quello che te ne sei accorta cioè è bastato un attimo per sentirsi guardati assolutamente ed è quello che succede anche tra un bimbo e il genitore cioè il bimbo chiede papà guardami mamma guardami mentre faccio questa cosa non gli frega niente se gli dici bravo l'hai fatta bene e anzi forse anche peggio esatto gli interessa che tu lo guardi a volte gli interessa neanche quasi che la fai con lui cioè gli interessa che lo guardi e questo effettivamente è molto bello perché è un'altra lettura che che effettivamente abbiamo visto nella nostra vita cioè ti senti guardato guardato e accolto che è questa tappa cioè tu sei un prodigio esatto cioè io ti guardo te ne accorgi te ne accorgi che sei bello guardato e accolto cioè nel senso che io ad esempio mi ricordo quanto quanti sproloqui credo che abbiano ascoltato mia sorella che diventerà santa solo per quello e per aver ascoltato a me e e anche suo marito no però loro mi accoglievano sempre a casa loro e a braccia aperte in ogni momento di crisi in ogni momento di confronto cioè loro avevano sempre una parola per me però la cosa bella era che loro prima di tutto si sedevano e mi ascoltavano mi facevano una domanda e mi ascoltavano e io parlavo 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 io credo che per loro sia stato difficilissimo non indirizzarmi in tante occasioni stare solo lì eh sì e dare pochi spunti senza però quello mi ha mi ha cambiato la vita perché io credo che quello che mi ha cambiato è stato il loro atteggiamento nei miei confronti cioè di accoglienza di ascolto io l'ho sentito proprio che loro erano tutti loro stessi lì per me e questo ha fatto una una differenza enorme io ti guardo in modo esclusivo esattamente mi sono senta guardata in modo esclusivo e accolta nelle mie domande perché faccio domande importanti per la mia età e e se tendenzialmente nel mondo esterno diciamo così nel momento in cui le facevo venivo un po' sminuita nel senso che che domanda è ma cosa vuoi sapere ma stai buona ma stai al tuo posto così e invece lì ho trovato delle risposte a questa questa mia indomabilità ecco chiamiamola così ma e quindi se Dio ti ha guardato in modo così esclusivo tramite certe persone o tramite certi eventi che cosa poi effettivamente hai iniziato a raccontarti di te esatto beh sicuramente il primo racconto che che mi è arrivato dal signore è che no io non ero sbagliata non ero cioè sentivo sempre dentro di me una voce che mi diceva no non sei sbagliata non stai cercando cose sbagliate non ti devi adeguare non ti devi livellare non devi pensare che la normalità sia quello che ti ha richiesto ma non perché io sono migliore degli altri ma perché penso che questa sia veramente la storia di tutti noi cioè tutti noi abbiamo queste cose dentro che io ho raccontato e secondo me il vero punto è ascoltare quella voce in fondo al nostro cuore che ci dice ascoltane ti parlano di te sei tu sei unica sei quello che puoi portare tu non lo può portare nessun altro perché siamo tutti figli dello stesso padre non c'è qualcuno che è più figlio di altro quindi se in un certo qual modo io grazie a Dio ho iniziato a leggermi in maniera diversa a leggermi non appunto col giudizio con l'etichetta di essere troppo sbagliata troppo esplosiva troppo qui troppo là e troppo poco in un altro modo e perché non fai le cose che fanno tutti non so per dire anche crescendo io ero la classica che sono andata a ballare quattro volte e poi mi ero pure già scocciata e questo in realtà per me non era un vessillo di vanto io mi sentivo mi sentivo sbagliata mi sentivo che ero io che avevo qualcosa che non andava mi sentivo che ero io che ero pesante che volevo delle cose da grandi invece dovevo godermi la mia età e invece dovevo vivere con leggerezza ecco tutti questi giudizi dentro di me che mi hanno schiacciato per tanto tempo in realtà il Signore mi ha pian pianino portato verso di sé facendomi capire che stavo cercando qualcos'altro che sì mi stavo appesantendo ma perché semplicemente stavo cercando lui in cose in cose che non erano non erano lui quindi che dovevo veramente andare a fondo di questo amore che mi aveva affascinato e anche qui c'è stato un incontro fondamentale con un sacerdote che per la prima volta nella mia vita mi ha parlato di Gesù come persona e mi ha parlato di Gesù come come proprio come uomo ma anche come Dio cioè in una compenetrazione stupenda cioè una persona che veramente ti parla di Dio e di Gesù in particolare e tu leggi una relazione che lui ha con questa persona che è Gesù e che ti apre la Bibbia e tira fuori veramente dei tesori antichi ma nuovi no e in particolare che ti racconta di Gesù uomo che però è un Gesù risorto che è un Gesù vivo che ti fa usando uno dei sui termini ti fa l'occhiolino no dietro l'albero dietro ciao Don Carlo Don Carlo mi ha parlato di questa di quest'uomo di questo Dio di questa persona viva e me ne ha parlato aprendo la Bibbia e aprendo la sua storia la mia storia la storia di tutti aprendo il cuore proprio della Bibbia di sé di me e veramente è stato qualcosa di grandissimo e che mi ha che mi ha spinto a capire che quello che faceva veramente la differenza era se io sceglievo di dire sì a questa cosa sceglievo veramente di dire ok Dio esiste intanto e non sono io quindi non devo ragazzi tre su tre sì sì è così è così è così tutti e tre gli episodi se non l'hai capito Dio esiste e non sei tu perché noi crediamo che dobbiamo fare chissà che roba cioè che se noi saremo puri saremo bravi saremo belli saremo perfetti e avremo raggiunto tutti gli obiettivi della nostra vita tipo io pensavo ah che se mi fossi laureata con il massimo dei voti e se mi fossi diplomata con il massimo dei voti e se avessi avuto il fidanzato perfetto la storia perfetta se agli occhi del mondo io fossi stata perfetta allora avrei incontrato no la felicità vera ragazzi la pienezza nella vita sta nel riconoscere che noi da soli non ci salviamo e che soprattutto sono più i nostri vuoti che le nostre pienezze ma è bello dirselo e raccontarselo e capire che in quei vuoti in quella sete in quello svuotarsi davanti anche alle batoste della vita perché no in quel buio in quel buio Dio ci entra per dirti delle cose nuove ma solo a te solo al tuo cuore personalmente quindi ripeto ho capito che ero io a essere la promotrice di questa relazione ma in risposta a lui che era il primo promotore cioè in tutti quei tassellini della mia vita che mi facevano soffrire che non accettavo che non erano andati come volevo io perché una delle mie malattie più grandi è che le cose devono andare come ho deciso io e anche qui alzi la mano che è un po' e quindi ho capito che invece lì era proprio il punto di svolta il punto di rottura ma anche il punto di salvezza che se io mi fossi aperta a questa grazia a questo ascolto a questa accoglienza a questa relazione io sarei andata oltre e quell'oltre mi avrebbe veramente cambiato la vita cioè io ho capito che nel momento in cui lasciavo i miei piani per farmi raccontare una storia nuova per essere nella volontà di Dio che ha una storia meravigliosa avvincente bellissima un'avventura ha preparato qualcosa per noi di veramente stupendo pieno infinito indefinito cioè se io avessi veramente accolto la mia fragilità la mia piccolezza come possibilità di fare spazio a una cosa che era oltre a me diversa da me e ben più piena allora io lì avrei fatto centro e quindi ho iniziato a fare questa pieghiera signore svuotami di me e riempimi di te che sia fatta la tua volontà nella mia vita bello e questa è stata la parola che che mi ha cambiato e quindi terza domanda esatto terza domanda dottoressa quale parola di Dio le ha illuminato il cammino esatto allora devo dire che ce ne sono state tante quindi ne citerò alcune io non mi sono scritta i passi come mio marito noi li scriveremo esatto in blog però spero che voi vi capirete lo stesso comunque sicuramente quando Gesù parla di libertà e di verità io lì mi sono sempre accesa quindi la verità vi farà liberi questa frase per me è un pozzo e la verità è veramente ciò che di più ha sempre acceso il mio cuore nella ricerca e ho scoperto che ascoltando la parola ascoltando quello che Gesù ha lasciato a noi tramite i i suoi apostoli i discepoli che libertà verità e amore coincidono coincidono pienamente uno non può esserci senza le altre e quindi questa cosa mi ha profondamente colpito e l'altra frase che mi ha sempre accompagnato è io faccio nuove tutte le cose cioè che c'è sempre quel famoso di più c'è sempre il famoso oltre c'è sempre quella novità che ti riempie la vita di pienezza basta lasciaglielo fare perché è lui che lo sa fare davvero ragazzi cioè noi vediamo come noi pensiamo che nella nostra superbia nel nostro orgoglio noi pensiamo che la cosa più brutta sia rinunciare ad essere io sono in mano la mia vita il re della mia vita e tutto quanto ma in realtà è proprio quello il punto è proprio quello il punto che non siamo noi che facciamo nuove le cose è qualcun altro è l'incontro con qualcun altro che ti fa nuova la vita e va riconosciuta va riconosciuta questa nostra definitezza non so come dire questa nostra questo nostro essere così cioè limitati proprio perché siamo belli siamo limitati e proprio perché siamo creature che siamo parte di qualcosa di più grande quindi è qualcosa che ci toglie è qualcosa che ci aggiunge che ci dà un uoltre un corpo ci è stato preparato per ricordarci la nostra creaturalità la nostra carnalità il nostro limite il corpo ha un limite definito dalla pelle e dai confini del corpo ma in questo corpo ci è chiesto di preparare qualcosa in realtà che va oltre questa nostra anima questo essere contenuti esatto questo essere contenuti ci definisce ma ci spinge anche verso quell'oltre che non siamo noi ma che ci riempie totalmente che abita in noi e quindi l'altra l'altra frase che mi aveva colpito che appunto ci ha detto Don Carlo alla fine del pelignaggio in Terra Santa è che Gesù lo si incontra in Galilea c'è proprio questa presenza quotidiana di Gesù nella vita cioè in quello che vivi tu oggi cioè la Galilea è la tua vita quindi tu fai tutto questo viaggio interessante dove scopri i luoghi della vita di Gesù della Bibbia di tutte quelle persone che sono narrate all'interno del libro della storia dell'uomo e però il punto veramente centrale è che Dio sta nella tua vita è lì è stupendo perché è il passo che vanno al sepolcro e lui non c'è perché chiaramente Gesù è risorto non c'è nel sepolcro non è morto se voi cercate Gesù nelle cose morte che sono i commenti degli altri sulla chiesa ragazzi quanti ne sentiamo che è come sparare sulla croce rossa ma è ovvio ma la chiesa è fatta di uomini vi sparate da soli nel senso è come autospararsi perché la chiesa è fatta di uomini ma il punto del popolo di Dio esatto c'è il punto del popolo di Dio è che tutti possiamo farne parte perché tutti riconosciamo queste luci queste ombre dentro di noi ma il punto è che scegliamo dove sta che parte stare il punto è che scegliamo dove parte stare non perché siamo perfetti ma proprio perché il nostro buio l'abbiamo ben guardato l'abbiamo ben guardato quindi e quindi vanno al sepolcro e dicono Gesù non c'è vi precede in Galilea esattamente adesso poi andiamo a pescare il morsetto giusto esattamente e poi mi sono segnata che vi precede quindi Gesù ti precede sempre cioè lui c'è già lì che ti ascolta e ti cerca sei tu che devi arrivare esatto non c'è questa ascesi pazzesca che uno deve fare per arrivare a Dio cioè non sono tutte quelle cose che raccontano un po' le pratiche orientali o tutto questo pensare che per incontrare Dio e per essere l'eletto devi fare una una salita pazzesca struggente col sudore e arrivare a strapparti le vesti e uscire dal proprio corpo proprio questa è una è proprio la cosa anticristiana proprio pazzesca per mano viene nel tuo corpo nel tuo cuore e ti prende per mano e ti viene a cercare lui quindi è lui che scende esatto questa è l'incarnazione e poi ho scritto quando egli apre nessuno chiude quando egli chiude nessuno apre Apocalisse 3,7 chi vorrà salvare la propria vita la perderà e e poi il seguito più che altro che io non ho scritto ma Marco 8,35 chi invece la perderà la troverà la ritroverà nulla è impossibile a Dio che questo forse sarà ancora più predominante ai pesati successivi ma soprattutto questa non è una frase della Bibbia ma è di uno dei miei libri preferiti che si chiama piedi di cerva sulle alte vette l'amore perfetto annulla ogni paura e ultima frase sempre presa da questo libro che eccola qua la sua grazia maestosa ha riempito di doni il mio bisogno e la mia povertà egli non vedrà le mie imperfezioni ma ama la bellezza che sarà bellissimo quindi ragazzi non siamo definiti dalle nostre storture non siamo definiti dal nostro peccato dai nostri errori da tutto quello che guardandoci indietro possiamo aver fatto di così brutto e di tutti i nostri fallimenti tutto quello che non è andato di tutte quelle cose di cui ci vergogniamo e che neanche a noi stessi siamo capaci di raccontarci non siamo definiti da quello ma siamo definiti da una bellezza che sarà da una cosa che può nascere come la Fenice che nasce dalle ceneri e perciò io vi propongo di chiudere vai dopo i saluti con una lettura integrale del discorso di Giovanni di un pezzo del discorso di Giovanni Paolo II alla GMG del 2000 prima prima vi salutiamo vi salutiamo e vi invitiamo come l'altra volta a fare questo esercizio con noi quindi prendetevi un po' di tempo per rispondere a queste tre domande cioè cosa racconti cosa ti racconti di te cioè cosa racconti immagina di essere davanti a un amico cosa racconti di te stesso guardandoti indietro nel tuo passato nel tuo presente e tutto quello che un po' sei cosa racconta Dio di te cosa ti ha raccontato in passato rileggendo questa storia e quali parole in particolare la parola di Dio ma in generale queste parole che ti che profumano di alto e di altro e di oltre e ti hanno illuminato e continuano a illuminare anche oggi i tuoi passi vi aspettiamo fatelo con noi e aspettiamo se volete le vostre condivisioni su questo piccolo eserciziato qua e su qualsiasi cosa insomma volete condividere con noi vi scriveremo un po' anche le cose che un po' abbiamo detto e nelle quali vi diamo anche delle indicazioni che non sono delle ricette ripeto non sono delle cose che dovete fare così altrimenti non funzionano e lo spirito mi ha suggerito delle piccole indicazioni che sono state quelle che sono servite a noi per approcciarci un po' alla parola di Dio e per approcciare questo metodo cioè mettere a fianco della vita vissuta una parola di Dio è una parola che ti sa di luce e ve li scriviamo e se possono magari no magari sì aiutarvi in questo piccolo esercizietto perché è così che incontri Cristo esatto un abbraccio la vita e a presto e ascoltiamo questo brano le parole di Giovanni Paul in realtà in realtà è Gesù è Gesù è Gesù che suscita in voi il desiderio nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e millennio non abbiate paura di affidarvi a lui egli vi guiderà vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione ciao ragazzi ci vediamo domenica per la sesta tappa di Into the Home a presto grazie di essere stato con noi se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato trovi tutti i link in descrizione a presto a presto